Bene carissimi, allora benvenuti alla Catechisi giovanile che riprende dopo una pausa di due venerdì, cioè venerdì santo, quando abbiamo appunto partecipato alla Via Cucis del Papa e poi venerdì 25 aprile, giorno del messaggio della Regia della Pace. E in questo tempo Pasquale abbiamo sentito le bellissime Catechesi del Papa su quello che è il cuore stesso del cristianesimo, cioè che Gesù è vivo e questo è il messaggio principale, anzi volevo dire, ho scritto un libro sulle Catechesi di Papa Francesco del suo primo anno, intitolato Effetto Bergoglio, che già potete, è a vostra disposizione. Alla fin fine c'è da chiedersi che cosa, cioè qual è il nucleo, qual è la novità di questo pontificato. Intanto la persona stessa, insomma, che chiaramente ha i tratti del buon pastore, dalla persona semplice, dalla persona del popolo, è figlio di immigrati, è una persona di fede ed è una persona piena di tenerezza. Ma nel medesimo tempo, quindi ovviamente, come dice, come diceva già Papa Benedetto, no? La fede si diffonde per irradiazione, cioè se uno ha nel cuore Gesù lo irradia, c'è niente da fare, insomma. Ma se non c'è nel cuore è un cimolo squillante, può fare tutti i discorsi che vuole, anche bellissimi, ma alla fin fine è un cimolo squillante, che ascolta se stesso e si bavoneggia. Però c'è anche un'impostazione in tutta la predicazione del Papa, che è la medesima di quella degli Apostoli. Infatti lui dice che l'autore, che per lui è un autore di riferimento, è San Paolo. Cioè, la prima predicazione apostolica su che cosa si basava? Sull'annuncio che Gesù è risuscitato, che Gesù è vivo, che Gesù quindi è il Salvatore che ci ha salvati dal peccato e dalla morte, che Gesù è con noi fino alla fine dei tempi. Questo è il messaggio cristiano, che è una dottrina, ma questa dottrina riguarda una persona che è viva, che è viva. E se noi tolessimo Gesù dal cristianesimo, vi assicuro che sarebbe un guscio vuoto, perché anche tutto il resto sarebbe come tagliare le radici un albero, muore tutto. Allora, giustamente il Papa ha detto, nella catechesi precedente a questa, ha detto ma nelle vostre parrocchie, nelle parrocchie si crede che Gesù è vivo? Voi credete che Gesù è vivo, che è presente? Cioè, questa è la domanda di fondo, cioè che riguarda anche la nostra vita, e che è questa, cioè se io ho incontrato Gesù Cristo, perché se ho incontrato Gesù Cristo, o come lui dice, cioè io vengo davanti alla porta e busso, entrerò e ce ne ero con te, e tu con me, dice, cioè se uno, perché in fondo è Cristo che cerca noi, quando noi cerchiamo Lui è perché Lui ci sta attirando, cerca noi, Gesù ci cerca e cerca ogni uomo ovunque nel mondo, lo cerca direttamente, Lui personalmente, laddove non arriva alla Chiesa, lo cerca attraverso la Chiesa ma anche attraverso lo Spirito Santo, laddove appunto è possibile farlo, anche attraverso la predicazione della Chiesa. Ma se noi non abbiamo, dopo tanti anni di vita cristiana, non abbiamo incontrato Gesù Cristo, non siamo cristiani. E' per quello che molti perdono la fede, cioè molte volte mi chiedo come si fa a perdere la fede. Perde la fede chi o non l'ha mai avuta, cioè non l'ha mai incontrato Gesù Cristo, oppure avendola avuta, cioè avendola incontrato, poi non ha coltivato questo incontro, non ha coltivato questa amicizia, questa consuetudine, questo cuore a cuore, cioè non ha stretto un'amicizia con Lui. Ma come si fa a stretto un'amicizia con Gesù Cristo? Lo si fa nella fede e nella preghiera, perché guardate che la fede è un dono di Dio, cioè è una luce che Dio dà, non è che uno si può dare la fede. Sono delle persone intelligentissime che magari sarebbero anche predisposte a credere, ma che non hanno la fede, perché la fede è una grazia. Anzi c'è qualcuno che, come per esempio Montanelli, diceva non ho la fede perché Dio non me l'ha data. Questa è un'affermazione sbagliata. Non hai la fede perché avendo Gesù Cristo bussato la porta, i tuoi orecchi erano tappati e non hai aperto. Per quello che San D'Agostino diceva temo il Signore che passa e bussa, perché io non sento. Allora la fede è veramente una grazia, è una grazia immensa, cioè è la più grande grazia che uno possa avere sulla terra. Cioè la fede è la più grande grazia. Guardate che la fede cristiana, la possono avere anche i non cristiani, sia pure in una forma, diciamo, implicita, in una forma imperfetta. Sono quelle persone che noi troviamo anche nei Vangeli, insomma, che hanno già dentro un'apertura del cuore, per cui basta una piccola scintilla perché si accende la fede. Tu vedi per esempio i due centurioni che ci sono nel Vangelo, cioè uno che va a chiedere la guarigione del suo servo, l'altro che vedendo come more Gesù dice veramente costui è il figlio di Dio. Però la fede è una grazia quindi che viene data da Dio e viene data a tutti, a tutti in un modo diverso, cioè a noi cristiani, a noi che abbiamo creduto, mediante la predicazione, il battesimo e i sacramenti. Ad altri la fede viene data in un modo implicito attraverso la luce dello Spirito Santo perché Dio vuole salvare tutti gli uomini e vuole che vengano alla verità. Allora uno che ha la fede, uno che ha la fede, perché dico che è la più grande grazia che uno possa avere? Perché scopre un mondo totalmente diverso rispetto a quello che noi vediamo e fa un'esperienza di vita totalmente diversa rispetto a quello che fa uno che non ha la fede. Cioè uno che non ha la fede alla fin fine non sa neanche perché sta al mondo, non sa chi è, anzi a scuola ho imparato magari che è un animale, tutti siamo scimmie, tutti mangiamo banane, sono quelle cavolate, ma non sa chi è, non sa dove viene, non sa dove va, non sa il senso della vita, non sa cosa succede nel momento della morte, non sa neanche cos'è il bene e il male, perché oggi ormai si manipola tutto, quindi uno che non ha la fede è un povero disgraziato, è una canna sbattuta dal vento, è una forza che viene spazzata via dalle mode, infatti tu vedi la gente, la gente corre dietro alle mode di questo mondo, all'effimero, no? Ai lavaggi globali di cervello, per cui se uno poi per caso la pensa diversamente, dice, con lì ascolta Radio Maria dicono, capito? Cioè per dire che è controcorrente, allora noi con la fede, perché la fede è più grande uno che uno possa avere? Perché con la fede tu incontri Gesù Cristo, lo incontri, uno che ha la fede non dice, ma allora, a me quante volte mi capita di parlare con le persone che dicono, ma dopo, insomma, guarda che, dopo la, cioè le persone che perdono una persona cara, io capisco che c'è un dolore, anch'io ho perso i genitori, ho perso dei fratelli per dire no, quindi non è che siamo esenti dal toccare, ho perso persone care, anche amici, eccetera, persone che conoscevo, con cui lavoravo, e quindi tutti noi abbiamo avuto questa esperienza tremenda di una persona cara, che ti sta vicino e poi non c'è più, e quindi uno sente la mancanza, anch'io ho pianto per la perdita di persone care, insomma, quindi questo è, diciamo, Gesù stesso ho pianto quando ho visto le sorelle di Lanzaro che piangevano, tutta la folla che era, e anche lui si è messo a piangere, ben sapendo che l'avrebbe risuscitato, insomma, quindi, la mancata di una persona crea questa, questo dolore che c'è, però, è la cosa che mi colpisce, che è difficile, guardate le persone che hanno la certezza che una persona morta, sia, una persona morta cristianalmente con la fede, sia nelle braccia di Dio, cioè, guardate che è veramente difficile, è veramente difficile capire, guarda che il tuo figlio è in cielo, nelle braccia di Dio, dico, tu piangi, ma lui ti guarda, cioè, ti vorrebbe consolare, pensate che, perfino, per dire che io capisco il dolore, ma come siamo carnali, perfino, Ivanca, che ha perso la Madonna, ha perso la mamma, due mesi prima che la Madonna apparisse, e, aveva 16 anni, la Madonna le ha apparsa con sua mamma, e sua mamma era radiosa, in paradiso, le ha apparsa quattro volte con la mamma, anzi, una volta la mamma le ha per fin detto una raccomandazione particolare, ubbidisce la nonna che è anziana, capito? però, Ivanca poi, dopo l'apparizione, andava a casa piangendo, perché non c'era più la mamma, per dire come siamo carnali, cioè, noi facciamo fatica a creare nella vita eterna, ma perché facciamo fatica a creare nella vita eterna? Perché noi, nella nostra vita spirituale, cioè, nella nostra vita quotidiana, nella nostra vita cristiana, non abbiamo l'incontro con Gesù vivo, con Gesù risorto, con Gesù glorioso, per cui, per cui, non avendo questo rapporto, ci sembra che credere nell'aldilà, credere nella risurrezione, credere nel paradiso, credere in questa dimensione diversa della vita, che è Cristo risorto, ci sembra qualcosa di, come dici, di strano, da te vero che Gesù deve perfino cucinare il pesce, mangiare e cucinare il pesce, mostrare le piaghe per dire che non è un fantasma, ma che è vero, quindi, la fede, questa certezza interiore che va coltivata con la preghiera, grazie alla quale crediamo che Gesù è vivo, dire che Gesù è vivo, è vivo, il risorto, è, come si dice, la più grande notizia che si possa dare a una persona, cioè, io se devo dire la verità, se devo dire, non so, man mano sono davanti nella vita, ho realizzato, man mano sono davanti nella vita, ho realizzato che non c'è niente di interessante a questo mondo, al di fuori di Gesù Cristo, perché se io tolgo Gesù Cristo, sinceramente, non so cosa fare, non so come abbazzare il tempo, non so, sì, mi vedo una partita, un film questo, dopo di che cosa faccio? Sì, posso dedicarmi alla carità, per carità, vivo anch'io di carità, vivo anch'io, diciamo, facendo del bene alle anime, ma quale bene faccio alle anime? Il bene che io faccio alle anime è l'annuncio della gioia, della salvezza, della fede, della vita eterna, dell'amore di Dio, allora io so che alle anime do qualcosa di assoluto, qualcosa di vero, certo, anche se dessi del pane, dessi dei soldi, dessi del lavoro, faccio un'opera meritoria, ma se mi manca l'eternità è come nutrire dei cadavri, scusate, né più né meno, cioè è una cosa bella, buona, ma ristretta in una condanna a morte, in una, come si dice, in un cielo plumolo senza speranza, quindi questo è un po' il mondo d'oggi, cioè il mondo d'oggi non è che manca la carità a giorno d'oggi, ci sono, c'è anche la carità degli atei, c'è anche la carità dei non credenti, però è una carità che manca della dimensione, cioè è come dire, non so, siamo in prigione, ci suddividiamo i pezzettini di posto dove stiamo o come, abbiamo visto un film bellissimo, The Back Away, non so l'avete mai visto voi, cioè, sono quattro detenuti che fuggono da un lager russo, da una, da una, eh, sì, lager si chiama, no, quei russi come si chiamavano? Gula. Gula, ma quello lì era un lager, comunque, una, fuggono, ma fanno una, ma è un fatto vero, fanno una strada incredibile, erano quando cinque delinquenti, però, uno è riuscito a, a creare la fuga, fanno una strada che li porta addirittura sull'Himalaya, poi dall'Himalaya arrivano a casa, ma è un fatto vero, romanzato, ma è un fatto vero, come si è riuscita a fuggire, è una cosa incredibile, è un film bellissimo, allora, la cosa bella che tu vedi queste persone che a mente fuggono, fuggono, quindi, mesi di fuga, senza acqua, in mezzo alla neve, in mezzo al deserto, senza mangiare, braccati da tutte le parti, però, riuscivano, chi a prendere un pesce, chi a prendere, perfino, una biscia, insomma, riuscivano, e suddividevano tutto, suddividevano tutto, condividevano tutto, ma io, dicevo fra me e me, questa condivisione, questa carità, diciamo così, ha un senso, se, alla fine, uno poi arriva alla meta, ma se uno arriva alla meta, scusate, che cosa vuol dire, uno, come si dice, allunga l'agonia, né più né meno, allunga l'agonia e basta, allora, questo è il mondo d'oggi, non manca la carità del mondo d'oggi, manca la via d'uscita, l'esit strategy, come si dice, la via d'uscita, cioè la via d'uscita, è quello che dice la Madonna, nel messaggio che ho avuto oggi a Miriana, la Madonna dice, parlando dei pastori, dice proprio alla fine, parlando dei pastori, la Madonna dice, dice, li amo, li proteggo con cuore materno, perché essi vi guidano al paradiso, che mio figlio vi ha promesso, cioè, alla fine, perché noi dobbiamo ascoltare il pastore della Chiesa, perché noi dobbiamo obbedire il pastore della Chiesa, perché noi dobbiamo seguire il pastore della Chiesa, perché loro, loro, vi guidano al paradiso, che mio figlio vi ha promesso, quando l'ha promesso al ladrone, sulla croce, guarda che ha dei rapporti, la Madonna, meravigliosi, il ladrone sulla croce, aveva avuto la promessa del paradiso, la Madonna ci ricorda, che i pastori, ci guidano, verso il paradiso, che mio figlio vi ha promesso, cos'è il paradiso, cos'è il paradiso, e il paradiso è Gesù risorto, Gesù risorto è il paradiso, chi incontra Gesù risorto incontra il paradiso, chi ha nel cuore Gesù risorto, ha nel cuore il paradiso, questo paradiso, lo dobbiamo incontrare ogni giorno nella fede, perché se no, siamo avvolti dall'oscurità, e dalla tenebra di questo mondo, e siamo, come si dice, smarriti, nelle temi della menzogna e della morte, anzi la Madonna fa un bilancio, un bilancio nel messaggio che oggi ha fatto Miriana, questi messaggi sono una cosa seria, perché, ci dicono, come vedono le cose dal paradiso, capito, dal paradiso, come vedono le cose, e ci dicono, e ci guardano, nella nostra situazione reale, qui non si scappa, non c'è pericolo, che ci sia una virgola fuori posto, qual è la situazione? La situazione è questa, dunque la Madonna può aver detto, che lei è qui, per il nostro bene, per le nostre necessità, per la nostra personale istruzione, dice, sono qui, per il vostro bene, per la vostra necessità, per la vostra personale istruzione, quindi, necessità sono tutte, anche quelle del lavoro, della salute, tutti sono qui, per questo, per il vostro bene, perché siate felici, per la vostra personale istruzione, perché, abbiate la luce della fede, e quindi sono qui con un maestro di verità, per cui dico a colui che è la fonte della luce, della verità, che è mio figlio, e poi dice, dice, io capisco, cari figli, i vostri dolori, le vostre sofferenze, chi potrebbe capirvi meglio di una madre? Mentre entravo qui, incontrato uno che mi ha detto, va tutto male, cioè, mi ha fatto l'elenco di una cosa che vanno male, ma raccontiamole alla Madonna, la Madonna dice, la Madonna dice, capisco i vostri dolori, le vostre sofferenze, chi potrebbe capirvi meglio di una madre? Poi dice, ma voi figli miei, voi figli miei, è piccolo il numero, che mi capiscono e mi seguono, dopo 32 anni, dice, è piccolo il numero di quelli che mi capiscono e mi seguono, grande è il numero degli smarriti di quelli che vanno per strade senza via d'uscita, che vanno alla Carlona, la Madonna aveva usato parole di questo genere in passato, sono sbandati, vanno senza meta, vanno qua e là, vagano, dice, vagano, grande è il numero degli smarriti di coloro che non hanno ancora conosciuto la verità di mio figlio, quindi questa è la situazione, cioè, siamo in un mondo in cui, dove pure quelli che hanno avuto la fede, non, cioè, non hanno questa grande grazia, per dire che poi è una grazia, ma anche una corrispondenza alla grazia, di aver incontrato Gesù Cristo vivo, risorto, che è il cuore del cristianesimo, che è la luce della vita, che è la forza della vita, che è la gioia della vita, che è il motivo per cui si vive, per cui si agisce, per cui si testimonia, per cui si lavora, per cui si alza presto al mattino, per cui si fa tutto, capito? Perché, sia il mattino che ho marzo, io devo guardare le icone della Madonna di Gesù, prontolo con la Madonna, poi però a Gesù, dico, sono qui, tutto il giorno, per lavorare per te, lavorare per te, e la ricompensa la voglio, la ricompensa che voglio, è il paradiso con te, ma questo deve essere una certezza, se manca questa certezza, siamo rami staccati dall'albero, siamo trottole che girano, manca la motivazione del vivere, manca la gioia del vivere, perché? Perché il tempo ci corrode, la cattività del mondo ci assorbe, ci fa fuori, se non siamo ancorati in Cristo, Satana ci distrugge, ci distrugge, se non ci fosse Gesù Cristo, avrebbe ridotto il mondo a un inferno, e comunque di conquiste ne ha avute, perché la cattività che è riuscita a seminare i cuori, è qualcosa di incredibile. Allora, allora, questa, vorrei proprio centrare la nostra catechesi di questa sera, su Gesù che è vivo, cosa vuol dire Gesù che è vivo? Intanto vuol dire, dunque, Gesù, Gesù, nella sua vita, ci ha già dato il senso e ha profetizzato la sua morte in croce e la sua risurrezione, però gli apostoli non l'avevano capito, ce l'avevano capito perché avrebbe dovuto morire in croce, tantomeno poi, tantomeno poi pensavano alla risurrezione, perché neanche dopo che era risolto ci credevano. Allora, per loro, per loro, questo ci consola molto, perché vedi come l'uomo è carnale, prima di arrivare a capire cose di Dio, è una cosa, ma anche gli apostoli, zucconi, brava gente per carità, però c'è da consolarsi, guardando come erano conciati, prima della passione di Gesù Cristo, e ne sembravano i nostri politici, più o meno, erano lì che facevano i conti, su cui doveva stare di qua, di là, eccetera, eccetera. Allora, quando Gesù Cristo ha parlato della sua passione, era proprio il momento in cui Pietro aveva detto, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, poi aveva detto, il figlio dell'uomo dovrà patire, eccetera, eccetera, essere il crocefisso, eccetera. Pietro chiamò Gesù in disparte, dico, non ristruisco io a questo, gli ha detto, signore, tu non devi dire queste cose, non sia mai che tu debba morire in croce. E Gesù gli ha detto, vieni dietro a me, Satana. Cioè, lui, Pietro voleva, faceva la parte di Satana, voleva che Gesù seguisse lui, sulla via del messianismo trionfale, capito? E Gesù lo chiama Satana, gli dice, vieni dietro a me, seguimi sulla via della croce, ma non è riuscito a seguirlo, alla fine, alla fine, all'ha rinnegato, alla fine ha rinnegato. Per cui gli apostoli poi, quando Cristo è risorto, Gesù ha dovuto spiegare perché aveva patito, aveva sofferto, era morto in croce, aveva patito, aveva sofferto, era morto in croce, per ispiare i peccati di tutti gli uomini di tutti i tempi. Per cui San Pietro, quando parla alla Fola di Gerusalemme, la sua prima predicazione, che è stata una cosa straordinaria, proprio si vede come lo Spirito Santo l'ha trasformato, diceva, ha patito per i nostri peccati. Per i nostri peccati, cioè, ecco il senso della croce. Avendo, avendo espiato i peccati, l'umanità, la nostra umanità, ha avuto la grazia, la grazia di essere liberata dal peccato e dalla morte e la risurrezione di Cristo non è un ritorno alla vita, come è avvenuto per Lazzaro. Cioè, questo non è una risurrezione. Quando noi diciamo, sì, ci sono Gesù Cristo, gli Apostoli, dei Santi, hanno risorto i morti. Si conta che nella storia del cristianesimo sono almeno 400 i morti che sono stati risorti come per un miracolo. E ci sembra un grande miracolo. sì, è un grande miracolo per carità, però hanno dovuto morire due volte. Hanno dovuto morire due volte, cioè uno risorge e poi more di nuovo. Cioè, sinceramente riesco a morire una volta sola. personalmente sì, una volta sola, anche perché penso, cioè voglio dire, non voglio far battute di questo genere, voglio morire una volta sola, punto e basta. Quindi, qua è una risurrezione per modo di dire. È un grande miracolo, una grande grazia, però non sei liberato dalla morte. Gesù Cristo è risorto dai morti nel senso che lui vive una vita che non è più soggetta alla morte, non è più soggetta alla corruzione, non è più soggetta ai limiti della carne, non è più soggetta alle leggi di questo mondo, cioè il suo corpo è glorificato. Questa è una cosa meravigliosa, cioè Gesù Cristo nella sua divinità e nella sua umanità è colui che noi saremo un giorno come lui, cioè lo sbocco della nostra vita, lo sbocco della nostra vita è esattamente la partecipazione alla risurrezione di Cristo, cioè con un corpo glorioso, non è più soggetto nella malattia, nella vecchiaia, nella morte, nei limiti, nelle sofferenze, a nulla, ma però capire, non so come dire, capire, essere partecipi, diciamo così, di quello che Gesù Cristo è adesso è molto difficile perché bisogna averlo provato, perché non è soltanto il fatto di avere un corpo glorioso, è la gioia che c'è, la luce che c'è, la vita divina che c'è, cioè l'umanità che partecipa della divina natura, come dice San Pietro, è una cosa meravigliosa, quindi, quindi noi dobbiamo pensare, noi che siamo nel limite, nell'oscurità, nel peccato, nella vecchiaia, nella sofferenza, nel disfacimento, noi siamo in questa condizione esistenziale, perché l'uomo nasce in una condizione esistenziale tremenda, cioè per quanto possano essere belli i bambini, quando nascono, crescono, però la parabola è quella, non c'è niente da fare, noi siamo tutti condannati alla sofferenza, alla morte, cioè noi siamo afflitti dalla nascita, dal peccato, ma il peccato è quella cosa che c'è in noi che poi si manifesta man mano che andiamo avanti e tu lo vedi nella cattiveria che c'è nel mondo, c'è una cattiveria spaventosa nel mondo, tant'è vero che la maggior parte degli esseri umani morono ammazzati, l'Occidente basta fare una panoramica, si vede subito questo, allora, questa è la condizione umana, questa condizione umana è stata realmente da Gesù Cristo perché noi partecipiamo della sua gloria, della sua santità, della sua bellezza, della sua gioia, è per quello che siamo stati salvati, cioè siamo stati salvati dal dolore, dal peccato, dalla morte, dalla cattiveria, dal peccato con il perdono dei peccati, ma poi il perdono dei peccati ci ha comportato in noi la pace della coscienza, la gioia, come si dice, la luce per cui capiamo qual è il senso della vita, la direzione della vita e la morte è vinta, diciamo così, superata nella fede, cioè beati i morti che muoiono nel Signore, cioè un cristiano muore non come uno che sta per tirando i calzini, o come dice, ormai è finita, ormai, capito, come uno che, come si dice, si è rassegnato a scomparire, il cristiano quando muore, come si dice, col suo cuore tende all'abbraccio con Cristo e quindi la morte diventa una beatitudine, ma anche la sofferenza, la sofferenza della vita, nella luce di Cristo risorto, uno la vede come una partecipazione della sua croce per partecipare alla sua gloria, cioè veramente Gesù Cristo ci ha salvati, cioè questo è quello che il Papa intende, diciamo così, mettere al centro della sua predicazione, perché era mai successo che un Papa facesse la predica ogni mattina in pratica, no? Ma questa era anche la prima predicazione cristiana, cioè nella prima predicazione cristiana si annunciava Gesù Cristo risorto dei morti, Gesù Cristo vivo nel nostro cuore, vivo nella nostra vita, tant'è vero che San Paolo dice per me vivere è Cristo, quindi questo è, diciamo, il cuore della vita cristiana, però, però, come si dice, il venire assimilati a Gesù risorto è la fatica della conversione, cioè, noi siamo molto carnali, no? Abbiamo bisogno pian piano, pian piano di aprire il cuore, lasciare che la luce di Cristo entri in noi, che la luce della fede illumini la nostra mente, che la grazia purifichi il nostro cuore, che l'amore di Cristo ci conquisti, questo è un cammino, un cammino che bisogna fare tutti i giorni, nella preghiera e con i sacramenti, perché poi Cristo risorto, quando è che noi lo incontriamo? Cristo risorto, non lo incontriamo nei sacramenti, con la sua grazia, ma nell'eucaristia, nella Santa Messa, noi partecipiamo alla morte e alla risurrezione di Gesù Cristo, cioè moriamo, proprio con Lui moriamo e con Lui risuscitiamo e nella comunione noi riceviamo Cristo risorto, per cui quando riceviamo il corpo di Cristo, riceviamo il Cristo risorto, il Cristo glorioso che ci assimila a sé, che ci ricolma di sé, questa è la vita cristiana, se togli dalla vita cristiana Gesù Cristo ci rimane, cosa ci rimane? è come un corpo senza anima, cioè un cristianesimo non è una dottrina così astratta o una morale astratta, il cristianesimo è l'incontro con Gesù Cristo e la morale cristiana, la imitazione di Gesù Cristo, cioè io incontro Lui che è il mio Signore, il mio Dio, il mio Salvatore, il mio amore, la mia luce, la mia forza e voglio avere i miei pensieri, i miei sentimenti, i miei comportamenti, le mie azioni, il mio modo di vivere come Lui, cioè rivivere in me Gesù Cristo, questa è dunque la vita cristiana insomma. Allora uno dice ma come faccio ad avere questa certezza? Guardate la fede, per sua natura è certa, cioè la fede è oscura ma è certa. Ci sì, ci sono anche come si dice, ci sono i segni che aiutano a credere, per esempio gli apostoli hanno visto il sepolcro vuoto, se non trovavano il sepolcro vuoto era già più difficile credere, il sepolcro vuoto è certamente un segno che aiuta la fede, così pure la testimonianza degli apostoli per noi è una grande certezza, perché? Perché è tutta gente che non credeva, che pensava che tutto fosse finito, che improvvisamente la loro vita è cambiata, che sono morti per questa fede, ma la fede è talmente certa, non per certezze razionali, cioè io non ho il contrario che uno si possa dire ah ma guarda quante persone che erano in coma, hanno fatto l'esperienza dell'aldilà, hanno visto luci, hanno visto, eh sì, per carità, io capisco che questi argomenti possono nutrare la gente d'oggi, ma alla fine fine dopo che tu li hai snocciolati tutti ti rimane il dubbio, ti rimane il dubbio a meno che tu non li abbia sperimentati personalmente, la certezza della fede viene dal tuo incontro con Gesù Cristo, cioè quando tu fai la comunione e non sei distratto e lo ricevi nel cuore e apri il tuo cuore e parli con lui e lui ti dà la sua pace, ti dà la sua gioia, ti dà la sua forza, ti dà una forza che nessun argomento razionale te la può dare, con la forza per cui gli apostoli hanno affrontato la morte, sono morti tutti i martiri, il primo di tutto è stato Stefano proprio alcuni giorni dopo la resurrezione di Gesù Cristo, quindi la forza, la fede è una certezza anche se è oscura perché la fede è una grande luce che illumina, però non è ancora la visione faccia a faccia, bisogna fare lo sforzo del cuore per credere, specialmente quando muore una persona a cui vogliamo bene, dobbiamo, lì si vede se abbiamo la fede, lì si vede se crediamo nella resurrezione della carne, lì si vede se crediamo nella vita eterna, lì si vede se crediamo che Gesù Cristo è vivo, per cui San Paolo dice non possiamo noi comportarci come i pagani che sono senza Dio e senza speranza nel mondo, c'è una differenza oggi col mondo nel quale viviamo che è nelle tenebre nell'ombra della morte cioè gente che non sa anche perché sta al mondo alla fine fine perché è così come dice bene la Madonna sono smarriti cioè sono smarriti poveretti oggi oggi la gran parte delle persone è smarrita è smarrita allora tu cosa fai ti metti a discutere con loro ma discuti perdi la voce ti arrabbi e hai combinato niente io ve lo posso dire che ho la vita alle spalle non ha mai convertito nessuno in quel modo lì ci sono che ho discusso fatto scappare anzi proprio non picchio allora per dire ma no non voglio dire che non sia necessaria l'apologia eccetera eccetera i duelli culturali i dibattiti culturali gli incontri culturali non si è mai convertito nessuno voi io ho visto gente che si è convertita andando a Međugorje o modestamente dico ma è vero ascoltando Radio Maria mai che si è convertita andando a un dibattito culturale non c'è niente da fare è impossibile è una cosa che non ha senso perché è questo perché la gente è smarrita è come si dice come si dice è come dice la Madonna no Satana viaggita come foglia al vento allora la gente ha bisogno di incontrare qualcuno che abbia una fede vera convinta che era in Gesù Cristo una fede come si dice sincera una fede che non è una forma di fanatismo ma è una grande gioia una grande luce una grande pace una pienezza capito per cui uno diciamo guarda come quella persona che pur a tutti difetti a tutti gli altri tutte le miserie che a tutti gli altri però le sa affrontare sa affrontare la vita con speranza sa affrontare la vita con gioia queste persone la Madonna è qui è qui da così tanto tempo per formare queste persone perché le tenebre si sono estese cioè nel mondo c'è una grande tenebra di menzogne di morte come lei la chiama dove molti sono smarriti allora la Madonna è venuta qui perché ci sia almeno una parte un piccolo gregge di persone che portano nel cuore Gesù Cristo vivo portano nel cuore la speranza portano la luce di Cristo sono i portatori di Cristo nel tempo delle tenebre questo è il suo piano cioè il maligno che vuole portare il mondo come lo sta portando la verità all'incredulità all'illusione di salvare se stesso cioè come facciamo a salvare noi stessi non lo so siamo ancora lì ancora oggi per poco non facciamo la guerra guarda non so come andrà a finire cosa vuoi che salviamo noi stessi se sono capaci di distruggere noi stessi noi se sono capaci di distruggere noi stessi solo Gesù Cristo ci può salvare la Madonna è qui per formare almeno una parte una parte della Chiesa perché la Madonna la Madonna vuole salvare il mondo attraverso la Chiesa e con chi altro lo vuole salvare Cristo è presente nella Chiesa la Madonna è qui perché la Chiesa sia la portatrice di Cristo risorto della sua speranza della sua gioia e della sua luce è qui per risvegliare i cristiani soprattutto per loro è qui capito invece noi che invece noi cristiani che dovremmo essere gli strumenti della salvezza siamo come rami secchi siamo diventati increduli abbiamo perso la speranza abbiamo perso Gesù Cristo abbiamo perso Gesù Cristo mi va di gramma dalla nostra generazione proprio questo adesso vi voglio raccontare una piccola cosa io mi ricordo che dicevo sempre una persona che conoscevo era un ragazzo dicevo sempre e perché non vai a messa non vai mai a messa cosa aspetti ad andare a messa ma che vergogna che non vai a messa no e lui non andava mai per anni e anni non andava mai nell'ultima Pasqua gli ho mandato un sms l'ultimo giorno di Pasqua Pasqua ultima gli ho mandato un sms e gli ho detto ah mi dico sei andato a trovare Gesù cioè lui mi diceva è passato bene la pagina quindi io ho scritto scusa ma sei andato a trovare Gesù non si aspettava questa domanda lui si aspettava sempre perché lui si è andato a messa anche a Pasqua ha detto sei andato a trovare Gesù ah ma stamattina non ho tempo beh gli ho detto se non hai tempo stamattina se oggi non hai tempo va settimana prossima a trovarlo che ti aspetta e lui mi rispondo no vado questa sera incredibile cioè è la medesima preoccupazione che un ragazzo un giovane vada a messa ma finché gli dicevo fai a messa non andava il giorno che gli ho detto sei andato a trovare Gesù Cristo sei andato a trovare Gesù che ti aspetta è cambiata tutta la prospettiva questo è un po' diciamo così la novità di questo pontificato capito che dice Gesù ti aspetta Gesù ti ama vai a incontrare Gesù ma è questo che dobbiamo fare noi dobbiamo dire alla gente Gesù ti ama Gesù ti aspetta tu lo puoi incontrare nella preghiera Gesù ti perdona Gesù ti abbraccia Gesù ama a te come ama a me capito? è una cosa meravigliosa queste sono le verità l'abc elementare perché le cose di Dio sono elementari non è che devi scrivere un trattato contro gli eretici un trattato contro gli atei no devi dire la cosa elementare come l'ha detta Giovanni Paolo II a Montanelli quando andò a cena da lui gli disse vieni in cappella che preghiamo per tua madre e Montanelli andòci in ginocchio ma se gli diceva così altra cosa non lo smuoveva questo per dire come lo dico perché giustamente si dice che noi ciò che è di più grande più bello c'è nel cristianesimo è Gesù Cristo è una cosa meravigliosa ma è vivo sapete Gesù Cristo è veramente vivo fai miracoli fai miracoli la Madonna è viva ma certo che è viva è viva però noi abbiamo bisogno che appaia se non ci crediamo perché noi la vediamo nel volto dei veggenti nelle parole dei veggenti nella testimonianza dei veggenti ci aiuta questo certo che ci aiuta ha aiutato molto anche me mi aiuta tuttora ma però vi dico la verità che se io invece di dire l'ave maria distrattamente invece di dire l'ave maria distrattamente dico ave maria piena di grazia e col cuore mi apro la sua presenza io dico ma che bisogna cercare di apparizioni che io sto parlando con la Madonna io sto parlando con la Madonna dopo che vi do l'ave maria detta col cuore mi dico ma io ho parato con la Madonna certo che ho parato con la Madonna e lei mi ha ascoltato ma noi tutte le volte che preghiamo ma sapete che preghiamo con Dio che ci sta ascoltando con Gesù Cristo che ci sta ascoltando con la Madonna che ci sta ascoltando ma vi dico meglio meglio un ave maria col cuore dove tu capisci che la Madonna ti sta ascoltando che quattro rosari interi ma veramente è così perché allora tu come quando incontri una persona oh se tu incontri una persona incontri una persona allora tu tu di Gesù Cristo lo incontri tutti i giorni nella preghiera non vi dico poi nella comunione e nella Santa Messa e nei sacramenti che se avessimo più fede vedremmo la sua presenza la sua grazia efficace se avessimo fede vedremmo i peccati che ci distrugge nel momento della confessione nel momento della soluzione ma noi queste cose non le viviamo non le viviamo non viviamo la preghiera non viviamo i sacramenti per cui è tutta una pratica esterna ma ci sfugge la presenza la presenza reale personale viva che è una cosa meravigliosa e che tu non è che riesci a reggerla a me basta in un rosario di un ave maria col cuore una mi basta tutto il resto è suppless come per dire capito ma una mi basta perché due già sto male sto male con due perché quando tu senti la Madonna presente non puoi cioè sono quelle cose che non puoi durare a lungo ma noi queste esperienze dobbiamo farle perché sono incontri veri nella fede nella fede c'è un incontro vero con Gesù Cristo nella comunione lui viene veramente in te con la potenza della sua resurrezione allora basterebbe un gruppo di persone che fosse che avesse questa certezza d'altra parte io mi sono sempre chiesto ma perché uno va all'Urd si ha delle grazie ma se uno va a Međugorje è diverso questo è fuori discussione ho provato io io ho girato tutti i santuari d'Europa sono da l'Urd tre volte per carità però per me andare a Lourdes è come andare cioè voglio dire ma uno va a Međugorje è tutta un'altra cosa per cui tutti tornano cambiati cosa succede? ma una cosa molto semplice sapete è che lì uno pensa una cosa uno pensa ma qui c'è la Madonna qui c'è la Madonna viva cioè tu capisci che il cielo si è aperto e che la Madonna è scesa sulla terra questo qui questa cosa qui fa scattare fa scattare un qualcosa che cambia la vita delle persone perché uno dice ma allora Dio c'è ma allora la Madonna è vera allora Chissanesimo è vero capito? ma allora non sono tutte cose campate per l'aria non sono cose non sono cose dei preti non sono cose sorpassate no c'è ma noi questa questa quindi l'apparizione della Madonna aiuta moltissimo solamente gli sciocchi criticano la Chiesa perché dà molta importanza alle apparizioni come lui come Fatima eccetera perché la Chiesa sa benissimo che sprigionano nei cuori come si dice la consapevolezza che non è che la fede sia basata sull'apparizione ma l'apparizione è tenuta a capire ciò che è il cuore della fede c'è la presenza vivo di Gesù e Maria nel cuore della Chiesa ma tu questa questa consapevolezza questo incontro con la Madonna lo puoi avere veramente tutti i momenti che vuoi solo dicendo un Ave Maria col cuore un Gloria al Padre col cuore facendo una comunione col cuore basterebbe quello basterebbe dire un Padre nostro col cuore che uno risolve un sacco di problemi cioè solo dire la parola Padre non ti dico ma poi si dice dacci il pane quotidiano guarda che è una benedizione una benedizione per chi per tutto perché Dio dà veramente il pane quotidiano e poi rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori cioè uno che non perdona i cuori si scardinerebbero cioè se uno pregasse piccole preghiere col cuore che ti mettono in contatto con la verità della vita divina uno cambierebbe allora noi però per far questo occorre ovviamente un piccolo sforzo di aprire il cuore e di come si dice quando preghi pensa che stai parlando che qualcuno ti ascolta e che lui stesso ti parla cuore a cuore capito non si tratta di fare la pulizia della mente o la pulizia come si dicono la meditazione trascendentale elimina tutti i pensieri come fanno gli induisti e i buddisti elimina tutti i pensieri e poi cosa ti resta le lucciole io ho provato le lucciole il vuoto no elimina le tue preoccupazioni le tue pensieri mettiti davanti al Signore mettiti davanti al Signore è per quello che ti aiuta anche un quadro anche una bella effigie della Madonna del Signore ti aiutano perché ti richiamano la presenza ma se se noi scopriamo questa presenza nella nostra vita va sicuro che non ci sarà bisogno neanche di Radio Maria guardate se uno veramente se uno perché uno che l'ha trovato Radio Maria cosa serve? ha intorno a trovare la Madonna a trovare Gesù non è che serve ad altro ma uno ma uno lo trova dentro di sé nel proprio cuore una volta che uno l'ha trovato diventa un apostolo per quello che Madonna dice dice dopo che c'è fatto un richiamo molto forte ad ascoltarla a seguirla ci dice guardatevi in giro quanti sono smarriti gente che non ha conosciuto la verità del mio figlio perciò apostoli miei pregate e agite portate la luce e non perdite la speranza cioè noi dovremmo essere quelli che hanno incontrato Gesù che poi che poi pregano per conservarlo vivo nel cuore e agiscono lo portano agli altri si preoccupano degli altri capisci lo irradiano con la bontà con la misericordia con l'umiltà con la mano tesa ecco questo è il cioè alla fin fine tutta questa presenza di Maria per 32 anni e perché la Chiesa è stata attraversata come il mondo purtroppo tutto il mondo occidentale da una crisi di incredulità per cui siamo vedete come siamo disperati ciutù guarda voi non so poi chi di voi conosce io non li conosco perché sono sempre vissuto in mezzo a povera gente quindi grazie a Dio neanche per sbaglio però vedo vedo in televisione i giornali eccetera eccetera quelli che hanno tutto nel mondo sono felici non so io se hanno bisogno di cambiare partner una volta alla settimana ditemi voi cioè voglio dire dov'è la felicità dov'è cioè sono sono come si dice è un mondo pieno di infelicità è un mondo che è veramente senza Dio è una miseria infinita però noi dobbiamo andare insieme a dire senza Dio è una miseria infinita dire dire Gesù Gesù è qualcosa di è un tesoro è un tesoro capito tu sei ricco tu sei colto tu hai tutto tu sei qua tu sei là io sono niente ma io ho il tesoro che che se tu lo scopri butti via tutto quello che hai se tu lo scopri butti via tutto quello che hai ma lo dice Gesù questo se uno scopre il tesoro che è lui Gesù vende tutto quello che ha e lo compra è che noi la fede non abbiamo bisogno di contrarla ci viene data gratis abbiamo bisogno solo di accoglierla la fede e vivere con questa gioia della presenza del Signore nella nostra vita e gli ultimi minuti voglio dedicarle a questo però sarà un questo è un libro che voglio scrivere cioè mi sono chiesto in che cosa consiste la santità perché se uno dice per diventare santi bisogna diventare come padre Pio mamma mia cioè voglio dire io perfisco non diventare santo come padre Pio cioè io cioè voglio dire mi piace vedere il mio film western vedere la mia partita di calcio insomma c'è niente da fare insomma dico le mie piccole cose cioè posso diventare ma sai ragazzi sapete a me piace il calcio però mi lo dico anche il mio confessore ogni tanto vedo qualche partita di Champions non me ne va mai bene una però dico ogni tanto vedo qualche partita di Champions e il mio confessore mi fa mi fa ma meno male se lo diventi scemo ma meno male se lo diventi scemo però io ho un po' di scrupolo perché dico ma scusa alla sera sono stanco anch'io dopo cena però perché invece di avere una partita di Champions cammino su giù per il corrido dicendo il rosario mi chiedo e magari qualche volta lo faccio dico un mistero allora sapete cosa ho fatto ho preso un quadro di Gesù mistericordioso l'ho messo vicino alla televisione ogni tanto commento una partita con il signore dico signore che brocchi ma ne azzeccano una cioè voglio dire torno al cuore del discorso il discorso è questo poi mi piace i giocatori che fanno sempre così no? quando fanno gol cioè ringraziano il cielo mi pare no? capiscono anche loro che per fare un gol ci vuole tutto il pane eterno specialmente allora ma perché vi dico questo? perché alla fine della santità sapete che cosa consiste? nell'amicizia con Gesù Cristo cioè si diventa santi diventando intimi amici di Gesù Cristo intimi amici di Gesù Cristo quindi lavorando per lui facendo per lui cioè voglio dire man mano che lui ti chiede tu dai ma la santità è questo rapporto di amicizia con Gesù Cristo non è null'altro che questo null'altro che questo ognuno con il suo carattere però l'amicizia con Gesù Cristo l'intensità di questa amicizia l'intimità di questa amicizia la fortezza di questa amicizia è il grado di santità perché perché la santità è così nell'unione con Dio cioè nell'amicizia con Gesù Cristo amicizia con Gesù Cristo e nel confronto della Madonna un atteggiamento filiale di amore come quello di un bambino verso la madre allora se la mettiamo in questi termini la santità la capiscono anche i bambini e a quelli spieghi guarda che tu hai una mamma che è una cosa meravigliosa che è la Madonna hai Gesù che è tuo amico che è Dio che fa tutto che può tutto e ti vuole bene tu crei già i presupposti di quella amicizia che poi cresce nel tempo e che è la vera forza della vita è così che dobbiamo evangelizzare è così che dobbiamo testimoniare